A partire da ieri la Federal Reserve ha indetto un piano da ben 46 miliardi di dollari di buyback di US Treasury che potrebbe portare nuova liquidità sui mercati. Inoltre Bitcoin, come anche il resto dei mercati, hanno subito un bounce molto molto interessante e infatti voglio mostrarvi dei grafici altrettanto interessanti. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon mercoledì mattina a tutti e in questo video andremo a vedere le ultime news impattanti sul mercato delle criptolute. A partire appunto dal programma della Federal Reserve americana che prevede un buyback di US Treasury di circa 46 miliardi di dollari che potrebbe portare nuova liquidità nel mercato ma soprattutto voglio portarvi anche il grafico della liquidità nei confronti di Bitcoin che paradossalmente, almeno nel brevissimo termine, pare avere una correlazione inversa. Però prima di andare a vedere tutto, nel dettaglio ti credo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso. Ai fa tu! Perfetto, basta perdersi in chiacchiere e passiamo con la visuale a PC. Allora ragazzi, partiamo molto rapidamente per quanto riguarda i dati di carattere fondamentale che usciranno durante la giornata di oggi. Vediamo come attualmente abbiamo i Tenier Nut Auction e i Crude Oil Inventory. Diciamo dopo i dati di venerdì per quanto riguarda il settore del lavoro e comunque sia appunto il tasso di disoccupazione che hanno generato un bel po' di volatilità e soprattutto hanno messo paura negli investitori di una possibile recessione. Il dato più importante adesso da tenere sotto occhio durante questa settimana è l'initial jobless claims. Ciò vuol dire le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione che tecnicamente comunque sia sono una sconseguenza dell'aumento della disoccupazione. Quindi ragazzi, attenzione, teniamoci ben stretti alle poltrone perché potremmo vedere anche qui, qualora fosse un dato troppo alto rispetto alle aspettative di 245.000 unità, potremmo vedere appunto un bel po' di volatilità. Nonostante ciò ragazzi, come vi ho già citato nell'intro, c'è un programma indetto ovviamente a partire da agosto fino al 30 ottobre di quest'anno del 2024, un programma che prevede un buyback per le US Treasury da parte della Federal Reserve di circa 46 miliardi di dollari. Praticamente andrà a comprare a mercato e farà appunto un buyback per quanto riguarda queste Treasury e andrà di conseguenza a diluire capitali, capitali che indirettamente potrebbero andare sui mercati a risconno, comunque sia indici, materie prime e perché no anche Bitcoin. Interessante vedere come gli ETF in linea generale dopo il grosso crollo che abbiamo visto appunto nelle prime giornate, nelle prime ore appunto di questa settimana. Nonostante ciò abbiamo visto tantissimi investitori che hanno fatto scorpacciata di stock, indici eccetera eccetera. Infatti vediamo come tra i maggiori gainers nelle ultime ore con più 5 miliardi di dollari soltanto con lo Standard Impulse 500 e il Tripla Q, compresi anche indici che contengono al suo interno i maggiori produttori di semiconduttori, hanno visto di l'inflow veramente veramente importante. Praticamente parlando potabile stiamo parlando di investitori che hanno approfittato del dip per andare ad acquistare nuovamente titoli e indici in questo caso. Notizia super interessante, Morgan Stanley, una delle più grandi banche di investimento, a partire da oggi inizierà ad offrire i Bitcoin ETF di BlackRock e Fidelity ai propri clienti. E stiamo parlando di più di 15 mila advisor che di conseguenza avranno centinaia di migliaia se non milioni di portafogli in gestione. Qua anche qui molto molto interessante, vediamo come sempre più banche di investimento stanno iniziando a proporre nonostante che ci è voluto un bel po' di tempo ai propri clienti questi strumenti. E se ci pensate è una cosa molto molto interessante, perché? Perché un conto è assistere al lancio dei propri ETF e soprattutto andare ad investire in autonomia in questi strumenti. perché effettivamente se ci pensate l'investitore medio americano, ma in realtà si potrebbe ripercuotere questo ragionamento in tutto il mondo, solitamente non fa l'investitore di lavoro e di conseguenza si affida ad un consulente finanziario. Di conseguenza potremmo vedere nuovi capitali arrivare dall'investitore medio che non si occupa attivamente delle proprie finanze ma si affida appunto al consulente finanziario. Anche qui notizia super super interessante. Già vi citavo all'interno di quest'intro l'andamento di Bitcoin nei confronti della global liquidity, ok? Stiamo vedendo una global liquidity che sta salendo in maniera vertiginosa, ok? Soprattutto negli ultimi giorni. Però Bitcoin sta andando nel senso opposto. Uno dei due ci sta mentendo e molto probabilmente in questo caso è Bitcoin. Perché tendenzialmente, ovviamente sto parlando di lungo termine, e di conseguenza non prende in considerazione i ritracciamenti di varie nature, anche perché qui abbiamo avuto appunto una correzione non tanto indotta da una scarsa liquidità, in questo caso specifico sui mercati, bensì appunto di tensioni geopolitiche, di paura dell'investitore nei confronti di una possibile recessione, un alto grado di open interest soprattutto per quanto riguarda Bitcoin. Nonostante ciò, tendenzialmente quando inizia ad accelerare la liquidità a disposizione sui mercati, gli asset a riscone, compreso Bitcoin, ne beneficeranno nel lungo termine. Se vi siete chiesti quali dei player hanno venduto per paura durante questo crollo, stiamo parlando degli short time holders. Infatti vediamo come su un ammontare di circa 850 milioni di dollari in Bitcoin, che sono stati appunto dampati durante questo crollo, per quanto riguarda i detentori appunto di Bitcoin stesso, vediamo come soltanto circa 600 mila dollari a fronte ricordo di 850 milioni di dollari sono stati venduti dai long term holders. Ricordiamoci che i long term holders tendenzialmente vengono definiti da moltissimi analisti come gli smart investor nel settore delle criptoroute. Ragazzi vi ricordo che c'è due promo molto interessanti, sia su Bybit che su BitGet c'è la possibilità di andare ad ottenere 500 USDT di position airdrop. Per quanto riguarda Bybit c'è la possibilità di andare ad ottenerlo e sfruttarlo soprattutto su varie coppie, come per esempio BTC USDT, Ethereum, Solana, Pepe, Dogecoin eccetera eccetera. Invece per quanto riguarda BitGet c'è la possibilità di ottenerlo soltanto sulla coppia di BTC USDT. Vi lascio comunque sia entrambi i link qui sotto per chi volesse provare gli exchange in modo completamente gratuito e perché no riscuotere anche una promo. Ovviamente vi lascio qui sotto anche i termini e condizioni per andare a riscuotere con successo questi position airdrop. Perfetto ragazzi, passiamo con il vedere come si sta comportando il mercato nelle ultime 24 ore. Ovviamente mi sto riferendo al mercato delle criptoroute e vediamo come abbiamo un mercato che continua la propria ripresa. Infatti vediamo come per esempio IOTS guadagna un 11,7%, NOTCOIN un 15,8% andando a recuperare buona parte appunto della perdita e vediamo come sul settimanale comunque rimane con una perdita del 6,7%, praticamente recupera quasi tutto. Abbiamo WIF che guadagna comunque sia un 19,8%, messo molto peggio dato che sul settimanale è sempre al di sotto di un 28,1%. Comunque lì in generale vediamo come il mercato sta recuperando. Anche Solana guadagna un 9,5%. Passiamo con il vedere i big, ciò vuol dire Bitcoin ed Ethereum. Bitcoin attualmente sta guadagnando nuovamente nelle ultime 24 ore un 2,77%, assestando il proprio prezzo a 57.200 dollari. Ethereum allo stesso modo guadagna uno scarso tra virgolette 1%, stando appunto sui 2.525 dollari. Ma volevo farvi notare una cosa molto interessante prima di andare a vedere i flussi dal punto di vista dei Bitcoin ETF, Ethereum ETF eccetera eccetera. Ok, attualmente abbiamo un sentiment di 29, 29 che è paura, però soltanto ieri avevamo un sentiment a 17, ciò vuol dire estrema paura. E volevo farvi notare che l'ultima volta che abbiamo toccato un dato di 17, che tra l'altro qui non mi calcola nemmeno perché, eccolo qui esattamente, agosto dato di 17, fear grid index. L'ultima volta che l'abbiamo toccato, se andiamo a ritroso nel tempo, vediamo come ci trovavamo a giugno del 2022. Praticamente eravamo in completo bear market. Stavamo facendo l'ultima lagdown che ci ha portato appunto da 30.000 dollari fino a 20.000 dollari ragazzi. E di conseguenza una situazione del genere, tutte le volte che appunto lo ha toccato per un lasso di tempo comunque sia più lungo, non come questo. Questo è stato più un flash dump. Comunque sia poi abbiamo avuto un bottom, tra virgolette, locale del mercato, ok? Comunque sia, volevo farvi notare questa cosa molto curiosa, che abbiamo toccato appunto livelli, che nonostante siamo molto vicini all'alltime high, abbiamo toccato livelli di paura estrema che non vedevamo dal bear market. Nonostante ciò, voglio mostrarvi il fatto che continuano i deflussi dal punto di vista Bitcoin ETF. Infatti abbiamo meno 2750 Bitcoin durante la sessione di scambi di ieri. Passando però con il grafico di Bitcoin, voglio farvi notare delle cose, ok? Infatti vediamo come dal minimo locale, toccato a 49.500 dollari, abbiamo recuperato un 15,64%. È stato un rapido bounce, abbiamo preso, come abbiamo visto, la liquidità sottostante per poi ripartire esattamente, ok? Infatti vediamo come appunto sul grafico a 6 mesi abbiamo preso ZACT, la liquidità, e siamo ripartiti, ok? Adesso non ci rimane che questa liquidità qui, almeno sul semestrale, ovvero il punto in cui è partito tutto questo impulso ribassista, ok? Volevo farvi notare però anche una cosa sul one week, ok? Appunto sul settimanale. Infatti sul settimanale si è formata questa super zona di liquidità tra i 61,3 fino ai 61,5, che è quantificabile più o meno con 2 miliardi di dollari, ok? Infatti diciamo che è la zona più intensa verso il rialzo che ci potrebbe appunto fare da, tra virgolette, reversal nel brevissimo termine. Magari potrebbe andare a prenderla per poi avere un reversal nel breve termine, ok? Comunque staremo a vedere. La situazione su Bitcoin, comunque abbiamo visto che ieri abbiamo avuto una chiusura proprio leggermente sopra, anzi in concomitanza alla chiusura del minimo che si è formata appunto tra il 7 e l'8 luglio, ok? Come vi ho detto mi piaceva vedere una chiusura al di sopra, ben al di sopra, almeno nel livello a cui ci troviamo adesso, ok? Qualora dovesse chiudere anche oggi al di sopra dei 57.130 dollari non sarebbe proprio malissimo, ok? Il top scenario sarebbe almeno andare a recuperare questo massimo qui e superarlo e chiuderlo almeno verso i 58.500 dollari, ok? Questo nel top scenario in modo da confermare una continuazione verso il rialzo, perché questo se no potrebbe essere benissimo un ritest di questo livello per poi probabilmente, qualora dovessimo vedere ovviamente, dei sintomi di reversal continuare verso il basso, ok? Non mi sembra questo il caso, effettivamente, però comunque sia dobbiamo mettere in campo tutti gli scenari possibili, immaginabili, dato che la situazione è abbastanza complicata, soprattutto su Bitcoin, ok? Andando a vedere appunto i flussi di Ethereum, vediamo come, a differenza di Bitcoin, ieri ha acquisito circa 40.680 Bitcoin e a mia ricordanza, infatti, è il flusso più alto mai registrato, ok? Ovviamente non stiamo parlando di flussi enormemente alti, infatti effettivamente è il flusso più alto mai registrato, però comunque sia, ragazzi, la situazione è questa. Nonostante ciò, Ethereum ha una performance più brutta rispetto a quella di Bitcoin, come vi ho detto, infatti abbiamo rotto verso il ribasso tutti i livelli importanti, a differenza appunto anche di Bitcoin, che comunque rimane all'interno e al di sopra di questa trend line dinamica, seppur ribassista. Comunque sia, vediamo come attualmente Ethereum aveva appunto una price action più stabile, più orizzontale e vedere una candela o una del genere fa male al cuore. Nonostante ciò, vediamo come dal minimo abbiamo anche qui recuperato un 19%. Per quanto riguarda invece Ethereum, la cosa migliore da recuperare invece sarebbe rientrare all'interno di questo range, 2950 dollari, ok? Questo per andare a scongiurare appunto che arrivati magari a livelli di 2800 sia un ritest per poi continuare verso il ribasso, ok? Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Se non l'avessi ancora fatto, ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso. Per iscritti invece, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!